Però mi piacciono questi qua. Quante sono? E' bella no? C'è anche con questi più piccoli, ma è forte questi qua. E cos'è quelli? Questi qua i 400, però preferisco uno, due, tre anti. Per me è meglio questi qua di più, la verità, quelli lì. Questi qua, oppure questo nero, nero. Anche questo nero non è male. Aspetta. Questo nero mi piace anche. Costava il piccio così, due cose. Hai comprato quella che è gigante, e non quale che è questo, il piccio è grandissima. Hato point. Va bene.